Ehi lo sapevi che su fandomium.com ora ci sono sconti natalizi fino al 50% in più e adesso il codice sconto jacksard vale ancora di più per risparmiare ulteriormente quindi vai su fandomium e poi vedete il video ed eccoci qui in questo video un po' curioso dove andremo a leggere il tweet di Ken Penders che da quel che ho capito era uno di quelli che si è occupato del costume e dell'avvoltoio nel film di Spadmium 4D mi cancellato quindi vediamo un po' quale sta la sua esperienza e cos'altro possiamo scoprire su questo film che ci perseguita da anni detto questo vediamo un po' allora Ken scrive Prima che Tobi e Sam ricevessero l'addio da Sony il lavoro su Spadmium 4 era effettivamente iniziato e ho fatto visita ad amici che stavano lavorando al costume dell'avvoltoio destinato all'attore John Malkovich una volta interrotta la produzione tutti i materiali sono stati consegnati sono quasi 15 anni che ci lavoro sopra bene bene queste sono le ali dell'avvoltoio di Spadmium 4 ali molto 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 fumettose mi sembra proprio lo stile del fumetto non quella roba di Homecoming che sembrava non lo so un aereo un deltaplano è un peccato che abbiano cancellato tutto qui invece abbiamo ah qui abbiamo proprio un video addirittura lo scheletro di Venom c'è qui e ci sono anche le ali dietro vedi questo probabilmente è un altro prototipo delle ali dell'avvoltoio molto figo molto interessante abbiamo anche un prototipo proprio dell'avvoltoio fatto in ceramica immagino per dare l'idea di come alla fine ma comunque cazzo comunque era figo ragazzi era veramente figo e sembrava veramente molto fedele i fumetti visto che voi vi lamentate sempre parlate sempre dei fumetti qua veramente sarebbero stati molto 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 fedeli quindi un gran peccato vedi facevano i test costruivano questo sarà un magazzino insomma uno studio in cui si creano proprio queste cose per i film interessante questa immagine ragazzi veramente interessante ora qui ci viene raccontato un po' appunto l'esperienza è stato divertente vedere alcuni commenti ma vorrei rispondere ad alcune domande su spiderman 4 ora che mi sono consultato con il mio amico il lavoro non stava solo iniziando spiderman 4 ma anche su 5 e 6 e all'epoca non c'era nessun costume di mistero e lavorazione perché mistero doveva saltar fuori in qualche film immagino poi il mio amico faceva parte del team di frontline che ha costruito quelli ali e ha dichiarato chiaramente che non esistevano affatto durante spiderman 3 il team ha lavorato spiderman 4 solo per circa 2 mesi prima della chiusura della produzione nonostante l'affermazione secondo cui Angina Jolie sarebbe stata scelta per interpretare la figlia della voltoio al team di frontline era stato detto che Anne Hathaway era la favorita per quella parte e stavano aspettando ulteriori informazioni su quando fare il cast del corpo Hathaway sarebbe ragazzi quella lì che ha fatto praticamente la gatta nera nella trilogia di Nolan di di Batman insomma per chi ricordasse c'erano 6 serie di ali di Vulture che sarebbero state costruite ognuna con un'operazione specifica un set dove esso utilizzato per le sequenze di volo un set per mostrare il movimento su e giù un set quando il cattivo era una posa rilassata e così via dopo la chiusura della produzione la Sony non voleva che nessuno che avesse lavorato al franchise di Spider-Man fosse in alcun modo coinvolto in un nuovo film futuro poiché volevano un approccio totalmente nuovo e infatti si è visto durante la preproduzione di Amazie Spider-Man con Andrew Garfield il costumista ha contattato il mio amico per informazioni su come realizzare carta modello per i nuovi costumi di Spider-Man il mio amico ha rifiutato quando non è stato offerto alcun coinvolgimento o compenso in cambio delle informazioni e mi pare pure giusto infine non sono mai stato sul set non ho mai incontrato Sam Raimi ne ho mai visto una copia della sceneggiatura tutto quello che ho fatto è stato visitare un amico nel suo laboratorio e scattare alcune foto che ho tenuto nascosto perché me ne ha stato chiesto in quel momento e questo è tutto quello che ho da dire sulla questione bene bene è una testimonianza interessante alla fine comunque pensavo che si trattasse proprio di un qualcuno che avesse lavorato al progetto delle ali della volto in realtà è un amico di quello che ci ha lavorato vabbè però comunque ci ha raccontato una cosa interessante sarebbe stato fantastico vederlo speriamo sempre nella realizzazione di questo film anche se chiaramente se dovessero realizzarlo cosa che boh ultimamente sembra un po' difficile perché non lo so Sony non si capisce cosa voglia fare non parla non ci sono conferme non ci sono indizi a parte qualcosa di tanti mesi fa ma ultimamente c'è un grandissimo silenzio detto questo ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate se questo costume dell'avvoltoio vi piace se insomma vi sarebbe piaciuto secondo me sarebbe stata tanta roba e sicuramente cento volte meglio e molto più bello di quello di Homecoming che ripeto sembra un'astronave non sempre un costume detto questo come sempre fatemi sapere la vostra iscrivete al canale buonatevi per supportare il canale e le prossime news che arriveranno e noi ci vediamo prossimamente e noi ci vediamo